E ora come ogni giorno spazi e programmi candidati all'Assemblea Capitolina in vista delle prossime elezioni, tra l'altro probabilmente non si voterà soltanto il 5 giugno, notizie di pochi minuti fa, ma si potrebbe votare anche il 6 giugno, almeno questa è la proposta che il Ministro dell'Interno Alfano rivolgerà al Governo nel Consiglio dei Ministri previsto per lunedì prossimo. Buonasera, in studio Irene Pivetti, ben trovata, capolista di Noi con Salvini a Roma, lista che sostiene come sappiamo Giorgia Meloni, buonasera a Paola Concia del Partito Democratico, che ovviamente sostiene Roberto Giacchetti. Comincio da uno dei temi che abbiamo ascoltato nel nostro servizio politico, comincio da lei Paola Concia, perché è stata la settimana delle unioni civili, quindi di un passo storico dal punto di vista dei diritti, ed è un tema che è entrato, mi sembra, anche in campagna elettorale, soprattutto Marchini ne ha parlato, però in che modo entra in campagna elettorale, qual è la sua posizione e qual è soprattutto quella di Giacchetti? La mia di Giacchetti è sempre stata la stessa perché siamo stati in cinque anni insieme in Parlamento e quindi la sua posizione è la mia stessa posizione. Diciamo che semplicemente la legge che è stata approvata mercoledì è un passo storico, è una legge che si aspettava da trent'anni e si apre, diciamo, non solo cambierà la vita di donne e uomini, omosessuali evidentemente, ma cambierà in meglio questo paese. Oggi esiste una legge nazionale, come tutti sanno, anche dovrebbero saperlo i candidati sindaco, i sindaci devono, chiunque diventi sindaco in qualsiasi città d'Italia dovrà far rispettare la legge, ma lo dico con affetto, ecco, forse Marchini questo lo aveva dimenticato e quindi si è azzardato, diciamo, è partito per la tangente della propaganda. Ecco, Pivetti, questa è la posizione... Io tanto spero che Marchini, diciamo, non debba preoccuparsi di questo problema. No, vabbè, no, se ne debba preoccupare, Giorgia Meloni ha detto rispetteremo la legge. Ma certo, Giorgia Meloni lo sa. Questo è inevitabile, se c'è una legge dello Stato questa legge va rispettata, d'altra parte non è nemmeno illogico invece che, essendo questa essenzialmente materia morale, se ce ne sono gli estremi, dico se ce ne sono gli estremi, ha anche senso che qualcuno viceversa faccia appello all'obiezione di coscienza, però è una cosa che bisognerà vedere se appunto è possibile. Dopodiché, su questo mi sembra che Giorgia Meloni non abbia sollevato questioni e stiamo anche tranquilli. Personalmente credo che le unioni civili siano giuste, sono una cosa buona, tutto ciò che aiuta la stabilità in una relazione d'amore. Ecco, questo è quello che io personalmente penso, al di là dell'istanza politica, che di fatto non c'è. Perché quello che invece è per me aberrante in questa vicenda è che si sia giunti al voto di questa legge con un voto di fiducia. Questa è una strumentalizzazione politica che io trovo estremamente scorretta, tra l'altro del tutto irrispettosa dei diritti, degli interessati, dei destinatari di questa norma, proprio perché questo tema non è un tema di per sé di schieramento, lo si fa diventare un tema di schieramento, serve a puntellare un governo che cade da tutte le parti, e allora bisogna chiamare i propri a raccolta su un tema, ma in realtà la questione ha radici di tutto diverse. Si presta ad un dibattito, tra l'altro mai chiuso, perché poi anche nel corso dell'approvazione di questa legge, l'abbiamo visto, tante questioni sono rimaste... Guardi, questo mi porta a tornare a Paola Concia che ha vissuto l'esperienza parlamentare, oltre ad essere stata in prima linea. Sì, sì, no, da Presidente della Camera, ma infatti la domanda è la stessa per tutte e due. Lei ha, è vero, un'esperienza romana, un'esperienza parlamentare, dallo scenario nazionale torna a voler occuparsi di Roma, le chiedo perché, in questa fase. In questa fase, ma guardi, io intanto, una cosa che ho sempre detto tra gli amici, una delle mie più grandi desideri è stata quello di fare il sindaco, diciamo, no, no, non in questo caso. Giacchietti sarà preoccupato. No, 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 perché è candidato lui, ovviamente. E poi io ho fatto, io sono stata una manager, poi ho fatto appunto l'esperienza parlamentare, dopo sono tornata a fare la manager, mi occupo di internazionalizzazioni anche come l'onorevole Vivetti, mi occupo delle aziende italiane e so quanto sia importante il lavoro sul territorio, quanto sia importante costruire economia, valorizzare l'economia di un territorio per poi poterlo vendere all'estero, vendere il Made in Italy all'estero. E poi perché, per una ragione molto semplice, so che è un po' vintage, penso che sia anche quella, la ragione che ha spinto l'onorevole Vivetti, cioè la passione politica, la passione civile. So che può sembrare un po' vintage, ma io sono tornata dalla Germania, mi hanno chiesto e io mi sono messa a disposizione per dare una mano a questa città, perché penso che ne abbia molto, molto, molto bisogno. La mia esperienza, la mia competenza la metto a disposizione. Ecco, della gestazione invece dell'arrivo di René Pivetti, essere capolista di noi con Salvini, tra gazebarie e consultazioni, abbiamo letto molto. Perché Roma? Chiedo anche a lei, anche lei viene da un'esperienza nazionale, comunque. Sì, 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 io sono stata in politica Presidente della Camera 20 anni fa, ormai tanti sono. Che vuol dire che la seconda metà della mia vita poi me la sono vissuta da imprenditore, al di fuori dell'attività politica, ovviamente senza mai prescindere da una, appunto, passione e senso di partecipazione, e via, il senso della cittadinanza. Io sono cittadino a pieno titolo e esercito tutta la mia libertà nell'assommermi delle responsabilità. Roma per me è una conquista, una conquista proprio personale. Sono, lo dico spesso, un romano di importazione, come ce ne sono tanti. Roma è una città cosmopolita anche per questo, perché ospita nel suo grembo tanta gente che viene d'altrove. che vuol dire che ho lottato con questa identità di città, vengo da Milano, sono milanese, forse anche un pochino si sente, però poi ho imparato ad amarla, a capirla prima e poi ad amarla, soprattutto attraverso gli occhi dei miei figli. Io ci ho messo su famiglie, cioè la seconda parte della mia vita è completamente diversa, la famiglia, il centro degli affetti, eccetera, è diventato Roma. E questo mi porta non soltanto a tenerci molto a questa città, ma a tenerci con quell'occhio del convertito, non so come dire. Tante persone che a Roma ci sono nate, magari ci stanno da generazione, rischiano qualche volta di non vederla, cioè di abituarsi un pochino di più ai certi aspetti, che invece noi che ci siamo arrivati dopo non possiamo tollerare. Io la vedo nuova tutte le mattine, nel senso che non soltanto la carta per terra, ma il monumento sciupato, il traffico irrispettoso, quelle cose lì. Io mi ricordo quando ci sono arrivata, mi ricordo tante cose, allora credo che proprio per questo sia bello poter... Poter restituire qualcosa. Esattamente, poter far sì che Roma torni ad essere quello splendido biglietto da visita che è, prima di tutto per se stessa e poi anche per l'Italia. E da qui, riparto da lei, Pivetti, arriviamo ai programmi, l'abbiamo vista in una foto con Salvini al mare, nelle immagini, però qualche giorno fa, immagino sia uno dei punti del suo programma, invece ha visto il fiume Tevere, da vicino. In Tevere e Ossia. Vorrei chiedere in che modo questo è un punto del suo programma e quali sono gli altri principali, poi chiedo la stessa cosa. Intanto, partendo da Ossia, molto brevemente, sono molto orgogliosa anche di avere accompagnato Matteo in questa visita, perché il decimo municipio non soltanto a Ossia, ma anche le nomi... Il grande entroterra, perché poi l'Ossia fa 80.000 abitanti, l'entroterra ne fa 240.000, quindi non bisogna dimenticare anche questa importantissima parte del territorio che rischia di restare priva di un'identità, è un territorio operosissimo, ricco di risorse, anche per la città di Roma, e non è giusto identificare Ossia con quella scheggia di malaffare che ci riporta al discorso di mafia capitale. Quindi proprio nell'interesse dei cittadini di quel municipio, dei cittadini romani e degli imprenditori di quel territorio, era giusto riaffermare il primato della qualità, perché quello è un posto bellissimo e che merita di essere valorizzato. Il Tevere, se vogliamo, è un elemento simbolico, neanche tanto, del nostro programma, perché proprio nella sua sinosità la spina dorsale di Roma è una risorsa del tutto inespressa, oggi, perché è veramente rovinato, veramente abbandonato, mentre sia come banalmente, dico infrastruttura sportiva, sarebbe potentissimo, perché nonostante le condizioni deplorevoli in cui versa, resta comunque un luogo dove gli sportivi vanno, le famiglie vanno ed è bello per la città, ma potrebbe anche essere valorizzato ancora meglio come arterie di trasporto. Voglio fare soltanto un paragone, è chiaro che non si può fare tabularata di tutto quel che c'è, però insomma la Senna per Parigi è un elemento vincente. Un altro titolo dal suo programma, proprio un titolo? Un altro titolo, beh sicuramente rilanciare, a parte risanare il degrado sul quale mi permetto di pensare che siamo tutti d'accordo, vorrei vedere chi è che la vuole un po' più degradata la città, superiamo questa fase, preliminare, sicuramente rilanciare le attività economiche della città di Roma, perché non soltanto il commercio, ma anche ritornare a un centro di attrazione delle attività finanziarie, delle grandi società multinazionali rispetto alle quali Roma può e deve tornare ad essere un player internazionale importante. Sempre per titoli, ho la concia e le sue sensibilità. Irene Pimenti evidentemente ha letto il mio programma, avrà avuto così un figo. Ho visto che vi parlavate prima di entrare in onda, non pensavo. No, beh ma perché appunto entrambe ci occupiamo di internazionalizzazione, al primo punto delle cose di cui credo che siano urgenti è la Roma globale, cioè Roma deve tornare ad essere protagonista della scena europea e mondiale, è la città più bella del mondo e però dobbiamo metterla nelle condizioni di fare questo. Attrazione di investimenti, attrazione di giovani, Londra e Berlino sono le città dove la stragrande maggioranza dei giovani amano andare e delle grandi intelligenze e quindi noi invece Roma deve tornare ad essere questo. In che modo? Attrazione. In che modo? Beh, lavorare, questo anche Giacchetti ne ha parlato, costruire spazi per le start-up e poi queste start-up però, che non rimangano start-up ma diventino aziende. Quindi questo è una cosa. Un'altra cosa importante, ovviamente appunto il degrado, sono d'accordo, c'è chi è che vuole la Roma più degradata, questa città deve, per poter attrarre investimenti e per poter attrarre economia, deve tornare a dei livelli europei. Un'altra cosa importante è occuparmi della Roma in movimento, cioè permettere che questa città, che tutti i romani e le romane che si muovono si possano muovere con efficacia e diminuere i tempi di percorrenza da un luogo all'altro e quindi valorizzare anche però altri modi di muoversi, car sharing, bike sharing, c'è il progetto del grande raccordo annuale delle bici, cosa non faccio? Io vengo da un paese come la Germania dove vanno tutti in bici, compresa la sottoscritta, cioè io vado a lavorare, vivo nella bicicletta, non sono paragonabili le città, però si possono costruire. E dove invidiano il sole di Roma che viene sfruttato. Su questo ti anticipo, stiamo facendo un gioco, una specie di scommessa, stiamo facendo una campagna elettorale ad abitamento di CO2, per cui noi ci muoviamo esclusivamente con i mezzi pubblici, con lo scooter e con il car sharing. Benissimo, io pure, io sono scooter, perché sono la luta qui con lo scooter. Il che a Roma ridurrà sensibilmente il numero dei vostri appuntamenti pubblici. No, ma invece non è vero. Certamente, però lo scooter per esempio no, lo scooter è una cosa che dice paura di guiderlo, perché poi ci sono le due. Io no, sono venuta in mio carino. Però vedete, quando si parla delle cose concrete... La parola scooter mi porta a chiedere a Paola Concia perché Giacchetti, che altrettanto si muove, abbiamo visto in scooter, è la persona giusta per Roma. Ma guardi, io Roberto lo conosco da tantissimi anni, abbiamo lavorato insieme tanti anni in Parlamento, cioè i cinque anni che sono stata in Parlamento e però abbiamo lavorato molto insieme. Roberto è un uomo di grandissima esperienza, un uomo di grandissima onestà e di grandissima trasparenza. Una delle ragioni per cui io sono tornata dalla Germania è lui personalmente, cioè di aiutare Roma insieme a lui. E ha una grande competenza, è un uomo di grande concretezza. E io, siccome sono una donna molto concreta, amo la sua concretezza e anche la sua competenza. Lui ha fatto, è stato come tutti ricordano, come ricorda giustamente lui, lui è stato capo di gabinetto negli anni d'oro, quando l'onorevole Pivetti era presidente della Camera, lei ricorda quella Roma negli anni d'oro di Roma e ha gestito il giubileo dove non c'è stato un morto e non c'è stato un avviso di garanzia. Non è poco, dice lei. Nei cantieri. Chiedo invece a Irene Pivetti perché Giorgia Meloni è la persona giusta? Guardi, Giorgia Meloni è la parte in sé... Ah, poi chiedo scusa, io chiedo a tutte e due, poi so che c'è molto fair play questa campagna elettorale, ma anche perché eventualmente gli altri non lo sono, secondo voi, persone giuste. Io comunque preferisco sicuramente la parte costruttiva, le dico, Giorgia Meloni è in sé una donna in gamba, molto determinata, tra l'altro lo sta dimostrando perché si porta la gravidanza a sesto mese ormai in campagna elettorale, stiamo arrivando in campagna elettorale, quindi evidentemente non le mancano le energie, pensate cosa può fare una volta che ha finito di essere inciso. Cioè voglio dire, a parte che... Le donne in gravidanza hanno più energie se la affrontano bene. Sì, sì, diciamo che comunque è anche un bel esempio in questo senso per le donne, al di là, questa è la parte un po' gossipara, ma comunque sia ci sta, è una donna comunque, dicevo, determinata in gamba. Il punto vero è che Giorgia Meloni è anche il segretario di uno dei tre partiti, ex tre partiti della coalizione centrodestra, ed era molto importante per noi riuscire ad indicare un candidato unitario. È noto a tutti che il percorso per arrivare a un candidato unitario è stato molto travagliato. C'è stato un momento in cui ce ne erano addirittura quattro di candidati, forse pure cinque se vogliamo contare anche storaggio. E si è andati progressivamente riducendo, e questo è una cosa buona. Non si è riusciti ad arrivare in fondo per molti motivi, anche perché il tempo era scaduto, diciamo si era arrivati troppo sotto, però nonostante le sue personali resistenze, lei non voleva candidarsi anche per i motivi personali che tutti conosciamo, e quindi si è fatta convincere tardi, ma quando lei è entrata in campo ho detto finalmente c'è un'indicazione chiara, perché le cose di cui abbiamo parlato oggi, e sono contenta che ci sono nella sostanza parecchi punti di contatto, c'è poi però sempre qualche, perché allora non si va d'accordo, perché ci sono delle problematiche sia di struttura ma anche di leadership, allora bisogna capire dei punti verso i quali si vuole andare a tendere, e io credo che il tema del leader sia un tema estremamente importante, non tanto chi sarà il leader, ma come sarà il leader, e per il centro-destra questo sarà un tema importante, io sono convinta che la vera leadership che serve oggi, non solo al centro-destra ma all'Italia, non è quella leadership verticale, per così dire, di tipo maschile, piramidale, il capo, i sottoposti, è una leadership relazionale, la persona cioè che sa tenere insiemi diversi, che sa costruire una squadra, ecco io mi trovo nel contesto con Giorgia Meloni, questa alleanza Lega Fratelli d'Italia, molto a vivere un'esperienza positiva di leadership relazionale, e viva. Paola Concia, questione morale se ne parla molto nel vostro partito, a livello nazionale in particolare, e per altri casi, negli ultimi giorni, anche Roma ovviamente è stata oggetto di una questione morale, che ha investito anche il centro-sinistra, riguardo alle vicende di Mafia Capitale, ma che sta in collo a noi, ma diciamo, però è evidente che a Roma, ha attraversato pesantemente anche la destra, che oggi sta con Marchini però, che è una destra che sta con Marchini, sì, alcuni anche con la Meloni, ma insomma, comunque, a parte, no, è giusto, sottolinearlo, vi troverete, la Mafia Capitale è stata, è stata un'esperienza trasversale, vi troverete di ereditare Roma però, in un momento in cui la legalità diventa ancora di più la precondizione che già dovrebbe essere ovviamente necessaria per chiunque si impegni in politica, è un'emergenza quella della legalità a Roma, è un'emergenza, la prima cosa da risolvere? Ma sicuramente è un'emergenza, ma insomma, io credo che ci sia bisogno, sicuramente è un'emergenza quella della legalità, che credo che sia legata, secondo me, a un nuovo patto tra cittadini e amministrazione, assolutamente, e cioè, l'amministrazione, è chiaro che chi amministra deve essere trasparente, onesto, direi che sono per quanto mi riguarda, secondo, conoscendo Irene Pio, anche per lei, cioè, sono prerequisiti che hanno fatto, sono la spina dorsale della mia vita, cioè, chi amministra e chi si occupa della cosa pubblica, l'onestà e la trasparenza sono prerequisiti, poi però ci vogliono anche requisiti di competenza, secondo me, non basta essere onesti e trasparenti, purtroppo, per governare la capitale di Italia. Ogni riferimento ha fatto persone. no, no, lo dico in generale, vale per tutti, vale per tutti, però quello per me è un prerequisito, quindi la legalità è sicuramente un elemento, credo che si possa riacquistare, attraverso, riacquistando un nuovo rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione, le ripeto, cioè, io l'ho vissuto in questi anni, in Germania, che cosa vuol dire, un rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione, l'amministrazione governa bene, è trasparente, dà i servizi, ti dice come spende i soldi, e tu però, tu però, anche cittadino, di controparte, devi restituire qualcosa alla tua città. e io penso, una cosa sola, chiudo dicendo, un'ambizione grandissima che ho verso Roma, e vorrei aiutare me stessa, Roma, i romani, tutta l'amministrazione, a far sì che tutti noi risentiamo Roma come casa nostra, io penso che ci sia un senso di estraneamento, tra i romani e le romane e la loro città, ecco vorrei che tutti, e in questo la legalità è una cosa importante, che tutti risentissimo Roma come la nostra città, e chiedo in un minuto su questo, la domanda poi banalmente è, adesso è il momento di metterci la faccia, per voi che vi candidate, per dire ai romani, innanzitutto, mafia capitale è il passato, e non sarà il futuro di Roma, come si fa? In questo non c'è dubbio, sono assolutamente d'accordo, è chiaro che l'onestà e la trasparenza sono prerequisiti, voglio prendere esempio, guardi, dalla nostra Costituzione, che immaginando qual è il potere più alto, che c'è nella nostra Costituzione, il potere di rappresentanza popolare, quello che risiede nel Parlamento, paradossalmente quello più umiliato tra i poteri dello Stato in questi ultimi vent'anni, il Parlamento fa due cose importanti, una controlla il governo, quindi il dovere del controllo, della trasparenza e della vigilanza, a tutti i livelli, e vale per il Parlamento nazionale, vale ovviamente per le amministrazioni locali, la seconda cosa, forse addirittura la prima, rappresenta la popolazione, cioè interpreta i bisogni, ma anche gli umori, le aspirazioni della popolazione, e li porta in una determinata direzione, è capace cioè di costruire un programma, una linea, questo io credo che sia anche molto importante, nella ricostruzione di questo patto virtuoso, tra pubblica amministrazione e cittadini, cioè non soltanto io non rubo, ma io faccio qualcosa per te, per portarti da qualche parte, io porto la macchina dal meccanico, e dico sono contento che non me l'ha rotta, beh insomma, sono contento che me l'ha migliorata, perché altrimenti cosa l'ha portata a fare, quindi questo rapporto, deve essere da entrambe le parti, il cittadino deve essere nelle condizioni, di poter stimare di nuovo le istituzioni, perché queste si rendono stimabili, non solo perché sono oneste e trasparenti, ma perché gli dicono, guarda io come la voglio la realtà, e ti faccio partecipare, di questa costruzione del tuo futuro, questo mi spiace, ma non c'è nessuna regola al mondo, che lo può stabilire, bisogna che tutti quanti, tutti recuperiamo un senso, di appartenenza, di cittadinanza piena, di responsabilità, di condivisione, di un percorso, del metterci la faccia, che una volta si chiamava senso dello Stato, parlava di cose vintage, anche io sono un po' vintage, il senso dell'istituzione, su questo siete perfettamente d'accordo, approfitto della vostra presenza, approfitto anche di un triste compleanno, per mostrarvi una schermata, è una vicenda che noi seguiamo ormai, da quasi un anno, perché c'è un'opera importante, che è stata realizzata a Roma, ma non è stata anche inaugurata, dall'allora sindaco Marino, e parliamo del 27 ottobre scorso, possiamo vedere la schermata, perché questo ponte, che collega i quartieri di Fidenia e di Villa Spada, entro pochi giorni dell'inaugurazione, doveva essere messa a disposizione dei cittadini, ad oggi, vediamo, cifra tonda, sono passati 200 giorni, e il ponte è ancora chiuso, ovviamente noi toglieremo questa schermata, e smetteremo di occuparci felicemente di questo, quando l'infrastruttura sarà a disposizione dei cittadini. Prendiamo l'impegno di partizia, chiunque diventa sindaco lo chiude questo ponte. No, bisogna aprirlo. Chiude i lavori, bisogna inaugurarlo. Chiude i cantiere. Siamo proprio in chiusura, quindi facciamo un giochino della torre. Paola Concia, se Giacchetti non ce la facesse, se Giacchetti non ce la facesse, chi le darebbe meno fastidio al posto di Giacchetti in Campidoglio? Eh, non rispondo. Provo a fare la stessa domanda di René Pivetti. Ovviamente non rispondo, perché per me la questione non si pone, Meloni andrà al ballottaggio, dopodiché diventa sindaco. Bocca al lupo a entrambi, bocca al lupo a Irene Pivetti, capolista ai noi con Salvini, a sostegno di Giorgia Meloni. Grazie per essere stata con noi e grazie a Paola Concia del Partito Democratico, a sostegno ovviamente di Roberto Giacchetti. Noi chiudiamo mostrandovi la schermata invece con i nostri contatti, l'indirizzo mail, redazione chiocciola, Teleroma56.tv, poi vediamo la pagina Facebook e la pagina Twitter, at Teleroma56. Grazie per essere state con noi e buon proseguimento di serata con i programmi di Teleroma56.